Cristian ciao come stai? Buongiorno, tutto bene. Hai dormito bene? Abbastanza. Abbastanza, non è che per caso hai sognato la Supercoppa, non so eh? No sinceramente no dai, non l'ho ancora sognata. Vabbè dai ti crediamo, ma senti ma tra i tuoi compagni di squadra ovviamente chi è il più divertente? Più divertente? Ce ne sono tanti ma penso frattesi. Perché frattesi? Ma forse perché ci passo più tempo quindi posso dire che è il più simpatico. Invece il più serio? Il più serio è... adesso ci devo pensare bene ma credo che sia Sommer forse. Chi è che invece ha un futuro da ballerino all'interno del gruppo? Sicuramente Quadrado. Balla bene bene? Molto. Vi insegna anche? Sì sì sì, ci insegna ma è molto difficile. Da regista Doc, quale sei in campo? Qual è il tuo film preferito? Qua credo che spiasserò tutti perché a me piacciono i film di De Sica. Tipo tipo? Ma tipo tutti i Natali che ha fatto, Natali sul Nilo, tutte queste cose. E che musica ascolti? Io ascolto il reggaeton. Se non avessi fatto il calciatore che cosa avresti fatto? Eh questa è una domanda difficile perché veramente non saprei. Quindi insomma calciatore punto e basta. Sì fortunatamente sì. Descrivi Christian Aslani fuori dal campo? No, io posso dire che sono un ragazzo veramente tranquillo e mi piace uscire poco. E qual è il sogno più grande di Christian Aslani? Eh i sogni non li vorrei dire però il mio piccolo sogno adesso sarebbe battere l'Italia all'Europeo. Christian un saluto ai tifosi. Ciao a tutti i tifosi, vi mando un abbraccio e sempre Forza Inter.